La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di attività e beni mobili e immobili per un valore complessivo di circa un milione e mezzo di euro nei confronti di un imprenditore che tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 aveva rivestito in due occasioni la carica di assessore del comune di Nocere Inferiore. L'uomo, figlio di uno storico esponente camorristico dell'agro nocerino sarnese, è stato infatti definitivamente condannato per estorsione continuata, aggravata dal metodo mafioso, nonché in primo grado dal Tribunale di Nocere Inferiore per associazione mafiosa, reato poi dichiarato estinto per prescrizione. Il ruolo attivo dell'imprenditore era emerso nell'ambito delle indagini rerenti, le procedure di affidamento dell'appalto e dei lavori di Piazza della Libertà Salerno. L'attività investigativa ha permesso di appurare come fosse sistematico per l'indagato non figurare nella gestione di aziende e di beni di fatto da lui amministrati e soprattutto come fosse sua consuetudine reclutare prestanome tra le persone che si rivolgevano a lui in cerca di lavoro o di sostegno economico in relazione ad attività in difficoltà. Il sequestro ha riguardato conti correnti dell'indagato e della moglie, con cui l'imprenditore aveva attuato l'escamotaggio di una separazione fittizia. Veicoli, terreni agricoli e la proprietà di cinque società con sede in Campania e in Toscana. Oltre all'imprenditore e alla moglie sono indagate altre nove persone in qualità di intestatari fittizie del patrimonio accumulato.